Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel nostro canale oggi a scuola la mia prof ci ha dato questi quindi sono quelli che noi abbiamo e sono tutti mezzi ok il primo che dovremo dopo che arriva questo c'è qualcosa di regalo anche allora primo hanno anche i numeri questo è il 22 ed è la macchina rossa quindi apri l'Ale semaforo semaforo vero ciao io l'ho piegato si l'ha fatto proprio lui è stato bravissimo ora tagli questi qua dalle ruote quindi questo sarà il nostro canale che ti pospiremo i mini villaggi i mini villaggi e in mezzo di trasporto di topolino 5 è tipo dalla scuola quindi cominciamo a modellare il risultato dovrebbe essere così se la cosa si sta un po' staccando al mio però comunque questo è il risultato ed è bellissimo ma questo si è tagliare quindi al prossimo part 2 quindi questi sono tutti gli altri questo e questo questo e questo ciao 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 ciao